Siamo in Sfollu1, veniamo da Pavia. Abbiamo registrato l'anno scorso il nostro terzo disco che si chiama Circles, l'abbiamo registrato in mezzo agli Stati Uniti, nel Midwest, in Nebraska, a Oma, con Ben Brodin. Questa sera siamo alla quinta data del tour che è iniziato fino ad agosto. Io sono Umberto, canto e suono la chitarra, lui e Nicola sono al basso, lui e Matteo sono alla batteria, lui e Manuela sono qui alla chitarra, lui e Andrea sono alle tastiere. Una delle cose più belle del nostro viaggio e delle registrazioni del disco in Nebraska è stata sicuramente che abbiamo trovato delle persone allo stesso tempo molto all'omano e ci hanno sempre trattato come dei musicisti. Mi capisco anche al fatto che capitava davvero di uscire e andare a comprare magari le birra sul mercato e di incontrare Connor Roberts che portava a spasso il cane con la sua fidanzata e ti chiedeva, ehi ciao, come stai? Come sta andando alle registrazioni? Dicevi, vieni! La scelta di andare a registrare negli Stati Uniti non è stata dettata tanto dal fatto di dire, ah che figo, andiamo negli Stati Uniti perché fare i dischi negli Stati Uniti è più figo che fare in Italia. Semplicemente Nicola aveva il contatto con gli RC Studios di Roma, per cui lui semplicemente dopo ho detto, ma perché non andiamo più con i Nusco Blue, poi ci ha mandato la scheda tecnica dello studio e praticamente dopo due ore eravamo a prenotare i biglietti del volo, per cui è stata non soltanto una scelta di stile ma anche una scelta tecnica, perché ci siamo sempre sentiti a nostro aglio, ci siamo sempre sentiti tranquilli, trattati come delle persone che andavano lì, non soltanto a spendere dei soldi e a strimpellare delle chitarre, ma anche delle persone che insomma, per cui si poteva avere alcun minimo di rispetto. Anche il poliziotto all'ingresso della Dogana ti chiede che genere di musica fai, sono tutti molto sul testo. Siamo nel mezzo della promozione dell'album, abbiamo alcune date fissate da qui a dicembre che comprendono diverse tappe sostanzialmente al nord Italia, al centro Italia, a Vicenza, a Bologna, nelle Marche, a Loreto per un breve tour fino a metà dicembre. Siamo molto contenti di proporre il nuovo album che ha delle scelte molto particolari di arrangiamenti, ci ha visto impegnati nel rinnovare anche pezzi vecchi che non facciamo da un po', siamo molto restaurati direi, e quindi come Nicola sta mostrando, con molta eleganza, ecco questo è il nostro nuovo figlio, siamo molto orgogliosi. Sono Morning Tea, è Mattia Fren. Come nasce il progetto? Nascono le canzoni, quindi nasce dalle canzoni in un periodo in cui avevo bisogno di stare un po' da sole, quindi è nato questo progetto acustico Chi dare voce, e avendo scritto 5 o 6 pezzi avevo cominciato a pensare di registrarli, eccetera, avevo cominciato a pensare a un nome, Morning Tea mi sembrava che suonasse bene, che racchiudesse un po' in due parole l'immaginario che mi rappresenta. Quanto ha influito vivere all'estero nella nascita del progetto? Ha influito sicuramente nelle canzoni che ho scritto finora, ho parlato di questa mia esperienza e di tutto quello che mi ha portato a fare, a scoprire, quindi indubbiamente ha influenzato il progetto. Come è nato il disco? Con Morning Tea ho voluto appunto fissare il momento in cui sono stato all'estero, avevo bisogno di staccare, avevo bisogno di vedere e conoscere cose diverse, conoscere persone diverse e semplicemente scrivere canzoni è sempre stata una cosa che ho sempre fatto, un modo di esprimermi e anche in quel caso lì sono nate delle canzoni appunto. avevo intenzione di fare un EP, poi era un momento particolarmente prolifico e quindi appunto ho pensato di fare un disco, tutto qua. Progetti per il futuro? Io non faccio neanche la scaletta perché mi mette ansia, veri progetti per il futuro non ne ho, sicuramente scriverò altre canzoni, registrerò altre canzoni e suonerò altri con c'è.